Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella venticinquesima puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con... Ciao a tutti. Grego, ciao a tutti. Elia, ciao a tutti. Federico, ciao a tutti. Allora, oggi ragazzi andiamo a fare il fieno, che è vita per noi, perché ce lo mangiano gli animali, ce lo mangiano... Eh, insomma. Ma c'è ancora metto il serbatoio? Eh, se c'è no. Come si mette la GPS? Ma sembra quella là che fa... Perché l'acqua è importante per il nostro pianeta? Perché la beviamo, perché la bevono gli animali, perché la bevano le piante... Poi arriva quello là che gli fa il montaggio. Le luci, Bobo Natale... Ma che è sta roba? È una del collegio dell'anno scorso. Mamma mia. Che tipo il professore in interrogazione ci fa... Perché l'acqua è importante per il nostro pianeta? E lei è tipo veneta, e con l'accento veneto fa... È importante perché... È perché la beviamo... Perché la bevono le piante... Perché la bevono gli animali... E poi tipo parte il montaggio sopra e c'è col bambino... Che gli entra nella sua faccia e gli fa... Le luci, Babbo Natale, le pie, i sassi... Al collegio è solo casi umani. Ma... Ciao, voglio essere la nuova Chiara Ferragni. Sì, sotto i denti. Sì, tu cazzo, glielo vedi. Aspetta, sono leggermente rita, 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 pavone. O no? Attenzione, guardate qua, è lì, col cavallo, col bacallo. Qualcuno sta portando l'SZ? Eh... Eh no, non credo. Eh, ci penso io. Ci penso io. Ma uno me l'avete chiamato Piccolo. No. Quello nero, chiamamelo Piccolo. Eh, ma si chiama l'SZ quello nero. Eh, le cambi... Oh, eh. Allora, vediamo. Piccolo deve essere un cavallo... Piuttosto me lo compro e me lo pago io. Ma io voglio il cavallo che si chiama Piccolo nero. Perché è nero quello che... Allora, vediamo. Lui, rinomina. Sennò me lo compro io, eh, lo compro io, te lo pago io. Però lo voglio io. No, 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 dai. Eh, Piccolo. Bravo. Poi c'è... C'è i Colai, c'è Cialua... Spirito... Cacchio di nome, eh. Poi c'è Molena, Muovi... Vabbè, c'è i Colai, c'è Cialua può anche diventare l'SZ. Fa vedere... Aspetta, voglio vedere chi è, prima. Eh, tipo... C'è Juan... C'è Juan... Qui che... Poi c'è Simo. Sisone. Questo è Sisone. Questo chi è? Spirito o Santo? Questo tutto pezzato? Questo che sembra una vacca? Albert. Io che speravo fosse l'SZ, questo qua? Questo è Simo, mi sembra. Poi c'è Molena. Ah no, questo è Molena. Ma non c'è l'SZ per ora. No, aspetta, ma... C'è Icola, Ic... Ecco, l'ho trovato. Allora glielo cambio, prenderemo un altro che diventa... Voglio prendere Piccolo io. Eh, Piccolo è quello nero. Ti fai prendere? Non si fa prendere. Ok, eccolo. Piccolo! È il suo griglio di partenza. Andiamo! Un giorno ti racconterò la storia di Piccolo. Era grande. Eh? Era grande. Ed è la stramassa che mi ha fatto prendere. Ma sta balla è vostra? È vera o è finta? Sarà fake. Piccolo? Fermi un attimo che devo vedere la balla. No, la balla è pera. È vera. Che devono metterci dentro, ma che non va. Eh, le balle vanno messi qua. Se no, questa è la vostra. Eh, è entrato Ciccolai. Buonasera, buon salve. Un attimo che io le pufio. Ma al contrario? Eh, fammi montare! Va? Fare il trommaggio pure. Ecne. Stiamo, sto guidando Spirit o Santo? Ok, falo Urao? Aspetta. Devo registrare comunque, voglio prendere Juan. Sandro, ho preso l'SZ. No. Sandro, ciao a tutti. Ah, mi vengono di rego. Ho preso l'SZ, Grego, posso cavalcarla? Sì, sì. Tanto. Oh, io mi sono andato a mangiare. Muovi. Ciao, Di, buon appetito. Non starai nel primo o nell'ultimo. Guardaci. Ciao, Di. Ciao, Di. Fedele, smettiamo di tamponarci. Ok, ora sto cavalcando, muovi. È troppo che mi spiega. Eh? Ha detto, dopo ti spiego. Cosa? Dai. Muovi. Ah, ho capito. Abbi pazienza, ma sono un po' ritardato stasera. Muovi. Sto cavalcando, muovi. I like to move, move. Questo rosso chi è? Si è alzato al tempo? Eh, sì, ma col tempo è zero. Cioè, che non cresce da... Juan. Ah, è questa la toia? Guarda, Juan. Guarda, Juan. No, si sta ancora alzando. Juan, sempre lui. No, Juan, non si può sentire. Questo marrone è bello, chi è? Simo? Si sole. Si sole. Simo, c'è lo io. E questo leopardato? Spirito santo, no? No, queste si sole. Oh, no, scusate, un attimo, non vedendo una partita da musica tutta. No, lagga tutto. Eh, lo molenà, lo molenà, allora. Ma ogni tanto scendi dai cavalli e loro tipo... Ok, si teletrasportano a posto, perché altrimenti non van bene. Devi mollarli qua vicino alla mangiatoia, mi sa. Se no, si arrabbiano e... No, no, metteteli a posto. Eh, infatti. Allora, ridammi il mio 7 e 14 qua, 24. Linci, tre e luci. Le luci! Questi ogni game portano in spazio, però. Eh? Ma toccare un po' il giorno? Si. Dai, ma perché hai iniziato la gara a bestia? Greco! Ma tu lo sai che verso fanno gli aseli? Ma, seriamente o cazzata? No No, dai, dillo Tu dillo La seconda Rain No, lui non può capire, non l'ha visto Eh, lo so No Cioè, una, una l'esame Del collegio E' andata là I professori mi fanno la domanda Che verso fa l'asino? E lei fa I-O E tipo, vos, copiano tutti a ridere E tipo, ci provo un po', non lo azzecca A una certa fa E il professore per aiutarla fa R-Ra E lei fa Raina E Raina è un professore Raina E poi l'hanno pure promossa Ma hanno promossa tutti tranne uno Che proprio, vavera Chi era? E' uno dei fratelli amorosi Ah, beh, eccoli lì poi Non sa neanche parlare Non sapevano manco l'italiano Non sapevano Sembra Non avevano più avanzata di me stesso Joan Della serie Joan 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 Samo, ma tu sei nel server? No Sto facendo la connessione in corso Sto facendo la connessione in... Samo, ma l'altro giorno Cos'è che ti ha dato un milione su GTA? E' entrato, ma tu hai dato un milione Ma dopo quanto sei entrato? Quindi sono stati due mesi in un aprile Vabbè, anche io Ma perché a me non... Io non riesco più a aprire E' una cosa bella E' una cosa improvvisante Lo apro Mi fa tutto caricamento Boh Si è verificato E' online? Si, non mi va più Non mi va più Non c'è più Pure a me Pure a me In realtà non credo Li ho visti solo in video O solo quelle robe lì Ah beh, in realtà pure Eh, caschi, caschi Che contro nassi Si, no, ma dico Tu mi hai chiesto Li hai già visti In realtà non credo O meglio, non ho ricordi Se li ho visti Faccio un attimo il giro attorno Poi faccio l'antimo Vieni sul campo 5 per favore Bestemmina Vieni sul campo 5 Una miriadi di bestemmina Sto per incombere sul server Samuvi a vedere Sta arrivando Prima che ci siamo Poi quelle nostre Quando ne vediamo Voltare Eh, sì Ma Eccolo Eccolo Ah, perché c'è il maestro Ma so, prego, fatica, fatica hey Ah, no Quindi non ho visto Adesso Ah, però Non ho visto Il mercato Non è Non è Ma perchè non si chiama Molena? L'avrei chiamato tu, no? No, mi chiamai tu Revo Lulepre Lulepre Buon Albert muovi Joan Simo piccolo Non si può Lsz Lsz è bellissimo Il cavallo No, ho fatto dub La versione cavallo è bella Solo il cavallo? Eh? No, mi hai visto nella versione vera La lasciamo Greco ma se questo sabato ti venisse a trovare? Tu? Me la presenti? Non ti voglio Sei il terzo incomodo Sarebbe la prima volta anche per te Quindi dai, non c'è male Eh, so già come va a finire Lei inviti a prendere un caffè Lei ti dice No, no, ci vediamo su in montagna Vai su in montagna Ci dici Ci vediamo No, c'è troppo covid Vediamoci a Padova Va bene, vai giù a Padova Vieni, non ti risponde Eh, vabbè, vabbè Breve storia non molto felice Sai cosa dovresti fare? Prendi Adesso Per fare una cosa Che in teoria Tu prendi Ci mandi la faccetta Quella nuova Con la lacrima Che so che ride E ci scrivi Hai visto che bella faccetta Che hanno messo? Così Buttata sul sarcastico No, vabbè Cioè Si sarebbe Ma non Eh, lo so Si starebbe però Non ci ha gommato più Fammi pensare a chi la posso mandare io Alla mia professoressa delle medie Ma no Quella che mi diceva Ma dove vuoi andare? Ma vai a fare lì Ti scammelo Ti promuovo Perché sei una scuola facile Si Sotto i denti Eh? Che sei uno? Che sei uno? Scusa Beh, chi ha voglia di studiare? A parte Grego No, conosco tante persone Che hanno voglia di studiare Proprio che non vedono Cioè, non è che studi per il gusto di studiare eh Forse te non l'hai capito Studi perché sei froggio Dillo Studi per il gusto di non fare l'elettricista un domani come me O il meccanico come te Perché Perché Magari agli altri non piacciono Non sono magari tutti come te che appiace fare il meccanico Capito? Sì, questo lo sapi io Tu studi per costruirti un futuro, ho capito Tu prendi me No? Prendi me Ho, ho, ho fallito tutto Ho fatto una scuola che non volevo fare Perché mi hanno illuso Che c'era informatica in questa scuola Invece di L'unica cosa che ho imparato a fare di informatica È programmare con Arduino Ecco Mi hanno illuso Quindi ho studiato elettronica cinque anni Mi sono diplomato E ora sto facendo l'elettricista Che non mi sarei mai sognato di fare l'elettricista E manco mi piace, tra l'altro Eh Sono proprio un fallito Sembra la storia della maggior parte dei miei professori Vabbè A parte gli scherzi No, non È andata così veramente Però Non ci siamo fallito Per questo Anche a me mi hanno illuso Cosa Diciamo, questa lezione che ho scelto io Infatti io ho le scuole aperte Mamma mia Vuoi venire qui? Sì, perfetto Allora, questo è quello che farai Schifo, schifo, schifo Le lezioni fanno schifo I professori fanno schifo Fidati che non mi avrebbero Se mi avessero bocciato Mi avrebbero chiesto Guarda Ti diamo 500 euro PURCHE stai a casa Invece che venire a fare la scuola aperta Non che ci chiedi per favore Se puoi venire a fare la scuola aperta Ma infatti pure io voglio fare questa cosa La scuola aperta C'è anche i compagni di classe nostra Come fare Andavamo là Non venite in questa scuola Io l'ho fatto eh Cos'era? 2018 2018 O 17 No, 19 2019 Salviamo i 2007 ragazzi 2007 Si, come Si, si, si Eh Fa una terza e meia 2007 2007 2007 Non so se ne conosco Sai Forse mia cugina 2007 Non so Sai che non so che età abbia mia cugina La più piccola Perchè le altre due lo so Una è una 95 Un'altra una 99 Però ho mia cugina più piccola Non so di preciso che Che tante Aspè C'è stata una Che mi hai rimandato Siamo... Occhio che siamo in puntata eh Si, si lo so Però non... Non dire... Una cosa con Maria possibile? Maria? De Filippi? Ma che Maria? No, a parte di riscarsi in Maria Io non ho amici, parenti Si chiamano Maria Maria Eh, da punto te dico Bah Anzi, mettiamo in pausa Me lo dici subito E se no poi mi dimentichi Eh, oh Se vuoi te li porto io che intanto Sono qua che non faccio niente Eh, eh, magari si Porca miseria Eh, ar... Arca di Noè Ah, eh, Samu Anzi no, ho sbagliato Greco Ricordati di entrare in azione Cioè Cioè Cioè, 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 cioè non metti risci con queste domande Fai come accompagnia Cioè, cioè Cioè, cioè, cioè Cioè, cioè, cioè Cioè, cioè, cioè In che senso In che senso? Ma se è lag Ma, allora, no Della sarac 아닌 Di gambie, dove hai congimati? Ah, eh, dopo, dopo Cioè ma che dopo, prima I ca... I campi si possono congimare anche dopo dai, Magna non ha congimato i gambi? ne ho fatto qualcuno o l'ho fatto io ieri? eh, porca miseria perché lo sempre congima io? ho capito non c'è stata fretta di trebbiare perché lo sempre congima io? porca miseria nella prossima serie terzisti fai congimazione trebbiatura magari riesci a scansartela dalla congimazione no, ma perché prima si deve portare i gambi solo perché paraculo a costo ti fai tre decimila strade diverse e fai un cazzo di mamma poi fa un po' a caso poi mi fai congimare a me e poi se un cazzo se non congimo perché non fai niente, muoviti oh, non mi brucare quest'erba la faccio pagare cara non faccio un cazzo, non congimo col cazzo che congimo vieni a voltare il campo allora, ora congimo io sono tutti ragazzi non mi bruciano, non mi bruciano non mi bruciano se cari a lamborghini ma vavi ecco elettro lamborghini elettro lamborghini c'è stata cps no? quanto mi manca gridarci tutto in faccia ma perché staccate il caricatore per andare? emerald del nostro caricatore frontale che mi interessa che aracco co 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 caricatore che campi devo fertilizzare? quella 84, 95, 96 e il 53 e il 77 e anche questi qua che dobbiamo ora potete scrivermi in chat please qualcuno mi ha detto per favore allora 95, 96 95, 96 53, 84 e tipo 2, 10 e 5? 2, 10 e 5 ce l'ha la dura richiesta ma credo che sì penso che sia 2, 10 e 5 falli la fine guarda mettiamo i numeri qua comunque siete dei dei john 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 ah sto premendo l'acceleratore col piede perfetto comunque è stracomodo io posso guidare il trattore appoggio il piede sull'acceleratore che ho per terra del g27 posso fare l'acceleratore e freno sì comodo io adesso voglio farmi ridare il g27 da cumatirante e mi prendo il trotto 2.0 amazing 10 euro su su gaming evolved su i stati gaming evolved nf come si chiamava n nf no fsn come si chiama n cosa nfsn ma la mappa prima no no questo questo modo da gaming evolved � s n s avevo un nome stv 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 poi c'era mb3d poi c'era mb3d poi c'era un altro 3d modding tipo una cosa del genere poi c'era pop power case no quello che era per evoluto track forse sta di fatto che tanti modder non ci sono più purtroppo questo cavallo anna ho fatto tipo qualche pende del 19 anche se ha fatto i lamborghini io lo dico a macerano qualcosina lo fa ancora i fenders la moto non suoi è stato aggiornato ho fatto un po' che muovo di salmina è un tattocino diciamo che in parte non è questo che abbiamo noi noi tipo un un altro modello che modello è non mi ricorda lo scaricato io tipo so tanto piuttosto c'è 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 il titan il super titan sognare lo sta a dormire a dormire probabilmente sta sognando la c9.206 ancora un minuto guarda lo ci voglio la puntata sta finendo è iniziata c'è stato attraverso che fai coppia quanto che volevo guardare la pelle ho cantato anch'io a tempo domanda c'è quando pure tu non giù anzi ti mando via subito tu l'ho fatta apposta io l'ho fatta apposta ma perchè i miei compagni devono rompere il cazzo la sera e con terribile disapunto è l'ora di chiudere io vi ringrazio salissimo per la visione da den ma non c'è non c'è disapunto non c'è disapunto perchè grego allora con questa notizia bomba l'ora di chiudere cosa preferisci vabbè jeremy ha sempre chiuso le sue puntate in questi due modi che io sappia o dicendo con terribile disapunto oppure con questa notizia bomba non ho mai sentito dire altre cose simmo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti